Accogliente e moderno, l'hotel Embassy in Boston è perfetto per l'organizzazione di eventi speciali ed esclusivi come il vostro matrimonio. Grazie allo staff qualificato e ai servizi proposti da questa elegante location, conserverete un ricordo unico del giorno più bello della vostra vita. Per il vostro banchetto la struttura mette a disposizione le eleganti e attrezzate sale interne, tra cui la Sala Basilico, in grado di accogliere fino a 350 invitati e con una spettacolare vista sul mare. Negli ampi spazi aperti che circondano la struttura potrete organizzare le diverse fasi del vostro matrimonio, approfittando di incantevoli oasi verdi e di un'elegante area a bordo piscina. Lo staff qualificato della struttura si prenderà cura del vostro evento, aiutandovi nei preparativi e nell'allestimento e curando con attenzione ogni aspetto del ricevimento. Affinché tutto sia come l'avete sempre desiderato. Potrete inoltre celebrare la cerimonia in spiaggia. I menù deliziosi del ristorante propongono varianti adatte a soddisfare i gusti e le esigenze di tutti gli invitati. Gli chef impiegano prodotti di prima scelta e di provenienza locale, per assicurare autenticità alle portate del vostro banchetto. L'hotel vi offre camere eleganti e dotate di ogni comfort per un soggiorno di completo relax, durante il quale potrete godervi la zona bar e la splendida piscina. Non potreste trovare cornice migliore per la vostra promessa.